ho sentito in casa mia non appena sono entrato un odore di bruciato ho pensato ma che sarà nella camera da letto trovo sopra il comodino un mozzone di sigaretta a mia moglie ho domandato donna rosa quasi è fumata lei tremanda ma guarda ed è svenuta la plan rea confessa rea confessa io però cercherò scruterò io però scruterò fiuterò e la losca trisca certamente scoprirò ma cautamente a nego street vado a uscire fuori un balcone trovo un uomo accovacciato io signori mi ha mandato cosa fate fuori qua io volavo in aeroplano e per combinazione sono caduti sul balcone dite proprio la verità ma mia moglie è rinvenuta nel vederlo caccia un burlo e avvenuto venimento la più nera infedeltà rea confessa rea confessa io però cercherò scruterò io però scruterò fiuterò e la losca trisca certamente scoprirò ma cautamente a nego street nella camera da bagno ho trovato un pompiere e scusate per favore ma voi che fate dentro qua mi ha chiamato dal balcone vostra moglie donna rosa si bruciava qualche cosa sossaiuto ma bombò ma mia moglie nel vederlo caccia un urlo di spavento e avvo terzi svenimenti la più nera infedeltà rea confessa rea confessa io però cercherò scuterò io però scuterò fiuterò e la losca trisca certamente scoprirò ma cautamente ma tengo stretta la dizione quando andavo a scuola il professor dice che bella dizione c'è sto ragazzo ero io a verità tutto qua